Simone Antolini esce allo scoperto, crisi con Cecchi Paone, vi dico perché Alessandro Cecchi Paone, il suo compagno confessa, ecco perché, è scoppiata la crisi tra noi Nei giorni scorsi Simone Antolini, ha avuto un crollo emotivo, arrivando a confessare al compagno di non essersi sentito granché compreso E quest'ultimo non l'ha affatto presa bene, visto che gli ha consigliato di trovarsene un altro I due, dopo qualche ora, hanno poi chiarito Ma qual è stato il motivo che ha scatenato questa crisi? A rivelarlo in queste ultime ore è stato lo stesso ragazzo parlando a tu per tu con Fiore Argento Dopo un inizio in cui facevo tutto, e non pensavo è arrivata la stanchezza, lo stress e ho reagito con lo sconforto E non pensavo è stato lo stesso ragazzo parlando a tu per 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 tu Grazie a tutti. L'isola dei famosi, il concorrente confessa. Io ed il mio compagno abbiamo dato un messaggio importante. Simone Antolini, chiacchierando ancora con Fiore Argento, non ha poi fatto mistero che se martedì dovesse uscire sarebbe comunque contento perché insieme sono riusciti a dare un messaggio importante al pubblico a casa. E non solo. Se dovessi uscire sono comunque contento perché abbiamo dato un messaggio importante. Siamo la prima coppia omosessuale del reality, e con molta differenza d'età. Di fatti il compagno di Alessandro Cecchi Paone, ha fatto notare alla naufraga che hanno dimostrato con i fatti che l'amore non ha età né confini. Questa per me è già una vittoria. Il ragazzo ha poi aggiunto che qualora i telespettatori decidessero di eliminarli vedrebbe comunque il positivo di questa avventura. Si ricorda che la coppia è in nomination con Nathalie Caldonazzo, e la sorella di Asia Argento. Ed in base agli ultimi sondaggi circolati online, pare siano proprio i due innamorati ad essere più a rischio di perdere il televoto.